Allora adesso Marco ci commenti questa ordinanza della Corte Suprema di Cassazione che è ancora calda di forno. Ah freschissima, è arrivata ieri sera. Questa ordinanza va a chiudere una causa legale ormai iniziata nel 2014, quindi dieci anni di battaglie. Una causa che riguardava il fatto di accertare se le cessioni di sovranità compiute con le leggi di ratifica dei trattati internazionali fossero meno legittime dal punto di vista costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 1 della Costituzione, norma che dice che la sovranità in Italia appartiene al popolo italiano, che la esercita ovviamente nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi attraverso chiaramente il diritto di voto. Sovranità significa democrazia, cioè il fatto che il popolo possa prendere le decisioni in casa sua. Qual era il problema dei trattati europei? Che nei trattati sono elencate tutta una serie di materie in cui la competenza esclusiva è passata all'Unione e in cui è fatto divieto espresso al nostro Parlamento di legiferare. Quindi in quelle materie noi possiamo votare chi vogliamo, ma nessun parlamentare può fare nulla, né chiaramente il governo, perché sono materie in cui proprio hai perso la potestà legislativa. Tra queste materie tra l'altro c'è la più importante, perché è la precondizione poi per l'esercizio di tutto il potere d'imperio dello Stato, che è la sovranità monetaria, che è passata nelle mani del sistema europeo, delle banche centrali ed è competenza esclusiva dell'Unione europea. In questo contesto quindi il punto qual era? Sostenere che un singolo cittadino potesse portare in causa la presidenza del Consiglio e i ministeri competenti, al fine proprio di rimuovere quella norma lesiva di un diritto costituzionale, che in questo caso era il diritto plurisoggettivo, perché è condiviso con tutti gli altri cittadini, di sovranità. Era un po' molto simile, in realtà lo spunto l'ho preso proprio da questo, alla causa che era stata fatta contro la legge elettorale, contro il Porcellum, dove si tutelava lì il diritto di voto, cioè era stato detto che un cittadino aveva diritto di agire direttamente contro la presenza del Consiglio e il ministro competente per far rimuovere una situazione che le deva il suo diritto di voto secondo le forme costituzionali. Quindi in quel caso era stato riconosciuto che era possibile per un cittadino, perché quella causa fu vinta, agire per rimuovere quella legge elettorale che violava la Costituzione per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto. Ecco, quella causa fu fatta? Fu fatta in quegli anni e finì proprio nel 2014, perché quando ho visto quella sentenza della Cassazione dopo il passaggio in Corte Costituzionale ho avuto l'idea di andare a monte. Esatto. Perché se tu mi dici ho ripristinato il diritto di voto, io ti rispondo, sì, ora l'avrai anche ripristinato, poi dopo è stato ritravolto, ma l'avrai anche ripristinato secondo legalità costituzionale, ma cosa vota a fare se hai ceduto a monte le materie su cui io devo decidere? Esatto. Perché il voto è il modo con cui si esercita la sovranità. Certo. L'articolo 1 è un principio fondamentale della Costituzione, anzi fondamentalissimo, perché è la base dell'essenza democratica, perché se non c'è un'appartenenza al popolo della sovranità non esiste forma repubblicana, non esiste democrazia, non esiste nient'altro. Cosa è successo nei primi due gradi di giudizio? Ho perso le due cause, Tribunale di Genova e Corte d'Appello di Genova, ma in entrambe le cause si era ritenuto che il giudice italiano potesse decidere su questa materia e quindi ci fosse la giurisdizione, si dice in senso tecnico, comunque detto in parole povere si potesse decidere. E quindi eravamo di fatto entrati nel merito, avevamo sfiorato il merito, la Corte d'Appello pur riconoscendo la giurisdizione aveva cercato di dire che comunque sia non potevi far agire in giudizio per la tutela di questo diritto, ma era una pronuncia piuttosto debole nel momento in cui la giurisdizione era stata detta e era stata riconosciuta. Quindi è stato fatto ricorso in Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione dopo un discreto tempo rispetto all'udienza, perché l'udienza l'abbiamo fatta ad aprile, il 9 aprile, quindi avevo capito che c'era qualche genere di riforma delle sentenze precedenti, perché quando ci mettono più tempo vuol dire che non è una conferma, in effetti ha annullato la sentenza di secondo grado, ma per darmi torto meglio, la sentenza di secondo grado. Nel senso che sono riusciti a dire che la questione dell'articolo 1 e quindi della soppartenenza al popolo della sovranità e quindi in definitiva al singolo cittadino non è tutelabile dal punto di vista giudiziario, è soltanto una scelta politica, quindi la cessione di sovranità è una scelta politica su cui l'autorità giudiziaria non può mettere becco. Questo è il senso della sentenza e tirano fuori tutta una serie di giurisprudenza anche precedente, che però è del tutto inconferente, perché si parla di casi come ad esempio, lo prendo che questo è interessante per quanto riguarda il, aspetta che arriva le motivazioni, così lo leggo precisamente, ecco, per esempio la causa che aveva tentato il territorio libero di Trieste contro lo Stato per riconoscere il fatto che avevano loro una sovranità su quell'area ai fini fiscali, eccetera. Su questo c'è carenza di giurisdizione, chiaramente, perché non aveva alcun senso che chiedessero loro di avere delle sovranità che sono prerogative dello Stato. Non c'era quindi a monte un diritto costituzionale tutelabile. Qui è completamente diverso, non ha niente a che vedere con questa causa, perché qui ti assumo qual è il diritto costituzionale che mi hai tolto, ed è quello dell'articolo 1. Quindi io cittadino agisco per rimuovere la situazione lesiva dell'articolo 1. Come me l'hai riconosciuto per il diritto di voto, me lo devi riconoscere a monte del diritto di voto. Io tra l'altro avevo utilizzato non certo questa giurisprudenza, avevo utilizzato la loro giurisprudenza sul Porcellum, che se non vaderate era l'8874 del 2014, che proprio andava in contrasto con questa sentenza, era innovativa per un certo aspetto, perché aveva stabilito il confine di quando, anche di fronte a un atto legislativo, il giudice può intervenire, perché non c'è dubbio che quella era una legge elettorale, quindi era comunque un atto politico. Però sono intervenuto come autorità giudiziaria perché quell'atto politico violava la Costituzione, violava i principi fondamentali, il diritto di voto con emanazione e collegamento ovviamente all'articolo 1. Quindi stavolta si richiedeva questo, io ho motivato in tutti gli atti su questo, loro non spendono una parola per dirmi la differenza tra queste sentenze che hanno citato e quella sul diritto di voto. Si limitano semplicemente a ripercorrere tutto quel filone giurisprudenziale precedente al Porcellum di segno diverso, tra cui addirittura la causa storica, quella che aveva tentato Auriti, relativa alla questione del signoraggio. Aveva vinto in primo grado e poi la Cassazione aveva detto che non c'è giurisdizione perché comunque sia, quelle sono scelte politiche, la sua unità monetaria è stata data alle banche e al Seb, quindi noi non possiamo più metterci becco. Ma la differenza tra quella causa e la mia, che allora, pur avendo avuto una bella intuizione, non avevano scritto e contestato in atti il fatto che il punto centrale era l'incostituzionalità della cessione di sovranità per violazione dell'articolo 1, l'avevano saltato quel passaggio, quindi è del tutto inconferente, non è l'oggetto di questa domanda. Eppure in questo caso fregandose ne sono tirati, sono andati dritto per dritto e riescono ad arrivare a dire delle cose veramente, vi dago qualche passaggio perché ce ne sono alcune poi veramente, veramente incredibili, dove addirittura riescono a dire che deve essere anche condiviso quanto affermato dalla Corte d'Appello e ribadito dai contro ricorrenti, cioè dallo Stato, che tra l'altro si dicono sovranisti attualmente questo governo, ma hanno utilizzato l'avvocatura contro tesi sovraniste in ogni caso, circa il fatto che la ricorrente, richiamando anche nel presente ricorso per Cassazione e la memoria la stretta correlazione tra principi di sovranità popolare, articolo 1,2, il diritto costituzionale di voto riconosciuto dall'articolo 48, non abbia in realtà azionato una specifica situazione soggettiva, di cui era titolare a una lesione del diritto personale di voto, ma abbia inteso denunciare soltanto una legittima cessione di sovranità da parte dello Stato italiano per effetto della ratifica dei trattati. Cioè è insensato, è completamente, oltretutto è illogico, ma è ovvio che l'assunto è proprio la lesione del diritto di voto, sul presupposto che non è illegittimo il modo con cui voto, ma mi hai tolto l'oggetto su cui votare, perché mi hai privato della sovranità a monte. E tutta la sentenza è di fatto, mi viene da dire una sorta di supercazzola, perché va avanti così su tutti i passaggi dove ribadisce l'insindacabilità di questo tipo di scelte che sono esclusivamente politiche. Anche qui, orbene, nella specie, la pretesa risarcitoria, qui c'era anche la richiesta di risarcimento che io avevo inserito per rafforzare la domanda, casomai, per avere una legittimazione più forte. Il diritto plurisoggettivo alla sovranità popolare, in quanto tale prospettata come scrutinabile da parte del giudice ordinario, costituisce mera eventuale conseguenza dell'effetito petitum sostanziale il sindacato di giurisdizionalità del quando e del cuo modo dell'esercizio della potestà legislativa dello Stato. No, io non ti sto dicendo che ti sindaco come eserciti il tuo legittimo potere politico, io ti contesto il potere politico quando supera i limiti costituzionali. Che è pacifico che si possa fare, se no tutta la giurisprudenza anche sui controlimiti della Corte Costituzionale che ti dice qual è la barriera dell'ingresso nel nostro ordinamento dei trattati internazionali. La barriera sono i principi fondamentali della Costituzione e fino a prova contraria l'articolo 1 è il primo dei principi fondamentali della Costituzione. Qui ho dovuto leggere praticamente 10 pagine di sta roba dove ripetono sempre la stessa cosa, cercando di rafforzare le motivazioni con una serie di sentenze del tutto inconferenti che non hanno nessun tipo di legame per poi arrivare oltretutto a una condanna alle spese insensata perché per esempio l'ultima che mi è capitato di vincere un mese fa la controparte era i reti, sempre per il discorso della depurazione delle acque eccetera, a causa vinta i reti condannata a pagare 2.000 euro di spese legali. Qua ha dato 7.000 ma non per uno, per tre, perché nonostante l'avvocatura difendesse i due ministeri e la presidenza del Consiglio hanno triplicato le spese, cosa che non avevano fatto né in primo né in secondo grado. Quasi come dire, oltre averti detto che non provare mai più a toccare la sovranità perché io ho fatto sentenza dove ti dico che c'è carenza di giurisdizione assoluta, che il giudice non si può occupare di questo perché è politica. Quindi vattela a prendere con i politici, non cercare più di intervenire. Ti fanno questo discorso, ti puniscono severamente, come dire, ora non provare neanche a contestare facendo una nuova causa questo discorso perché ti stronchiamo anche attraverso le spese per dissuadere un altro cittadino di fare altrettanto perché l'idea mia, se io posso agire per la tutela del diritto plurisoggettivo, per definizione gli attori possibili non è soltanto, non siamo soltanto noi, sono tutti cittadini italiani purché siano aventi diritto al voto. A quel punto il cittadino italiano potrebbe fare la stessa causa e il giudice, ovviamente la Cassazione non ha l'ultima parola, la Cassazione certo dà un indirizzo di diritto ma il giudice potrebbe anche discostarsene argomentando. La sentenza è punitiva, l'ordinanza è punitiva sulle spese, come dire, non provateci di nuovo perché questo giochino vi costa di nuovo 40 mila euro e quindi così che nessun altro faccia un discorso così. Quindi considerando che io non penso che i 5 giudici possano avere davvero questa difficoltà di comprensione giuridica fino al punto di scrivere queste sciocchezze, più la condanna alle spese è così alta, mi fa pensare che qui l'unico pensiero che hanno avuto nelle motivazioni è come me la cavo? Perché se entro nel merito come giustifico le decisioni di sovranità, non ho chance, allora mi devo inventare un modo per non parlarne e allora ti tolgo la giurisdizione in contrasto con il loro precedente sul porcellum perché allora anche in quel caso il diritto di voto non doveva essere tutelato perché si indacava una scelta politica, era la politica ad aver fatto la legge elettorale, ma lì mi hai valutato l'incompatibilità della scelta politica con la Costituzione. Stavolta su un articolo decisamente più importante del 48 che viene dopo la sua attuazione, nel 48, sull'uno mi dici non hai giurisdizione, infatti io per questo che dico sarebbe da valutare addirittura una responsabilità a questo punto, visto che c'è anche la richiesta risarcitoria di chiedere i danni per colpa grave ai 5 giudici che hanno fatto questa sentenza. Certo, ovviamente c'è da valutarlo alla luce anche dei costi che uno può avere perché in un giudizio del genere è chiaro che non è che ne puoi fare 100.000 di cause così, se no sei rovinato, però insomma mi sembra aberrante, poi ovviamente te la lascerò per una lettura attenta, la copia è per te. Farei una sintesi. Allora, i nostri costituenti hanno creato una Costituzione che si dice rigida, cioè che non può essere modificata con legge ordinaria. Una legge ordinaria non può modificare la Costituzione e proprio per questo succede che i giudici, tutti i giudici hanno il compito di verificare se una legge ordinaria è compatibile o no con la Costituzione. Se c'è un dubbio di costituzionalità hanno il compito di sospendere la causa e inviare la Corte Costituzionale. Ora, dire questa è una delle innovazioni più importanti della nostra Costituzione, cioè che i giudici possono fare da filtro per impedire che nel nostro ordinamento entrino delle leggi costituzionali, altrimenti la Costituzione viene svuotata. Ebbene, quello di cui stiamo parlando oggi è che una legge ordinaria praticamente non può essere vista da dei giudici perché è un fatto politico. Ma allora scusa, ci sono due livelli di politica. Questa è la politica del governo, questa è la politica costituzionale. Le scelte politiche che sono state fatte nella Costituzione è politica, ma questa politica è obbligatoria per i governi. Quindi non puoi dire che è una scelta politica, lo capisco che è una scelta politica, ma di livello inferiore di quello superiore. Se no tutta l'imparcatura costituzionale viene meno e potremmo dire anche che regrediamo indietro dello Stato diritto, perché qui se non ci sono giudici che possono valutare queste cose... Posso fare un esempio che mi viene in mente adesso? La Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, no? Ok, io governo e decido di ricostituire il partito fascista. Faccio una legge. E ti dico che non puoi dirmi niente anche se è incostituzionale perché l'ha deciso io il governo e politica. Esattamente. Quindi non puoi fare niente, è l'esatto esempio di quello che hanno fatto loro. Esattamente. Uguale, uguale. Cioè si è negato il sindacato di legittimità costituzionale a priori. Cioè tu potevi dirmi piuttosto come aveva tentato di fare la Corte d'Appello che quel diritto non può essere tutelato. La Corte d'Appello diceva che il voto non era tutelato perché non era fondamentale, non era un principio fondamentale, la sovranità non era un principio fondamentale. Noi avevamo risposto no, infatti non è fondamentale, è fondamentalissimo. Si regge direttamente tutta la Repubblica su questo. Quindi l'avevamo demoliti da questo punto di vista. E su questo, evidentemente non potendo scrivere niente, si sono spostati su una cosa del genere che, come hai evidenziato benissimo, è la totale opposizione completa al disegno costituzionale e al modello anche di valutazione e di legittimità delle norme del legislativo. Cioè la magistratura è un controllo delle norme del legislativo. È il suo compito, proprio per l'equilibrio dei poteri. È proprio il compito fondamentale della magistratura. Quindi la sentenza così, se uno avesse parlato così a un esame di diritto costituzionale, lo bocciano. E qui ci hanno fatto una sentenza. Ci hanno fatto una sentenza. Sì, lo bocciano proprio al primo anno di giurisprudenza. Non puoi dire che non è azionabile. Quindi chi ti chiedessero all'esame di diritto costituzionale, è fondamentale l'articolo 1 della Costituzione? No. Sì. C'è anche il lavoro dentro l'articolo 1, oltre alla sovranità. Ci sono i due pilastri su cui si fonda la forma repubblicana. Quindi è veramente... Io poi leggi una volta, fai un primo parere. Più la leggo, più mi ci arrabbio, perché dico... Alla fine concludo che o sei ignorante o sei in malafede. Perché non ho un'altra uscita. Con queste motivazioni non ce l'ho, un'uscita. Non posso dire un errore giuridico. Qui è premeditato, non sapendo neanche cosa fare. E secondo me non sono neanche troppo svegli dal punto di vista normativo complessivo. perché avevano una chance di cavarsela, che era diversa, provare a finalmente definire il concetto, la differenza tra cessione e limitazione di sovranità. E potevano ancorarla, gli do anche la risposta su cosa potevano fare, alla definitività o meno della cessione. Sì. Tu potevi dire che finché i trattati prevedono la procedura d'uscita... Potrebbe non essere una cessione. Non è una cessione perché non è definitiva. È limitazione. No, la definizione di cessione a livello giurisprudenziale sulla definitività della cessione. Non è definitiva. E quindi utilizzavo l'articolo 50 per fare una motivazione a limite elegante, che poi non potevo condividere, ma non ti posso attaccare. Sì. Perché non ti posso dire che sei ignorante o malafede se mi fai quello, ma hai fatto una valutazione giuridica che è il tuo compito. Sì. Sei rimasto all'interno di un ambito dove hai il potere di farlo. E mi sarebbe servita comunque quella sentenza, perché cosa voleva dire? Che se qualcuno avesse poi in futuro provato, e ci proveranno con gli Stati Uniti d'Europa, a toglierti la possibilità di tornare indietro, io ho già una sentenza che se anche mi ha dato torto, mi dice già che oltre non ci posso andare. È certo. E quindi io a quello poi puntavo come risultato minimo. E invece non ha neanche ipotizzato una cosa di questo tipo. Ha un solo pensato come vanificare l'azione e punirti pesantemente in modo che a nessun altro folle come me venga in mente di ritentare la stessa strada. Ben sapendo che comunque se lo facessero domani mattina 500 persone sta causa, lo troviamo un giudice di primo grado senza arrivare di nuovo da loro, che se ne frega di loro e manda gli atti alla Corte Costituzionale. Poi lì abbiamo di nuovo il problema di una corte politicizzata, però intanto sfidiamoli sulle motivazioni. Perché qui la sfida, ho capito, loro hanno il potere dalla parte loro e ti possono dire pagami adesso 30 mila euro, però intanto questa sentenza se tu la vai a leggere hanno fatto una figura ridicola. Perché non sono riusciti a argomentare su niente. Su niente. Ma loro possono contare sull'ignoranza generale che c'è oggi in questo campo, perché dopo 40 anni di propaganda continua, purtroppo il popolo non può capire queste cose, purtroppo manca giurisprudenza. Questa sarebbe una sentenza, infatti cercherò di sensibilizzare un po' i colleghi su questo, che la dottrina dovrebbe demolire. Qui ci dovrebbe essere una serie di commenti, di giuristi, di dottrinali, che dicono che cavolo hai scritto. Sì, proprio di note assistenza, come si faceva. Una volta io ne ho fatte diverse, però la corte costituzionale, mai alla Cassazione, però questa è una cosa che si potrebbe fare, una nota sentenza e pubblicarla sulle riviste. Sì, perché è talmente illogico il ragionamento che fanno. Sì, è veramente assurda. Sì, va bene, va bene, direi che ci sia. Perfetto.